Nelle campagne di Caltabuturo ho scoperto un tratto di strada romana che collegava Catania, Termini Merese, la principale via di comunicazione tra Marione e Mar Tirreno. Ce ne parla l'inviato Ernesto Oliva. La scoperta si lega ai lavori per la progettazione di una moderna infrastruttura e il rifacimento di un tratto del metanodotto Gaiano, Termini Merese, cantiere della SNAM. Uno scavo preventivo concordato con la sovrintendenza di Palermo ha messo in luce una porzione di massicciata che gli archeologi hanno identificato come l'ossatura di una strada d'epoca romana di età tardo-imperiale, 25 metri della via Catina Terme che allora collegava Catania a Termini Merese, dall'Oionio al Tirreno. E' il rinvenimento di un tratto di strada romana e proprio in questo punto, cioè in coincidenza con la strada statale 120 che si ipotizzava e avesse ricalcato proprio almeno per un tratto la strada romana, è stata una grande scoperta e una grande soddisfazione. Ora si prevede una variante di progetto che possa tutelare il bene archeologico. In questo caso, visto che siamo in attività preliminari, abbiamo studiato già una variante progettuale di tracciato di metanodotto che consenta di garantire la fattibilità dell'opera in modo coerente con i ritrovamenti archeologici. Questo tratto di strada romana segue da vicino il percorso della moderna statale 120. In queste ore la massicciata viene ricoperta in attesa che prossimi rilievi possano fare emergere in zona altri tratti di uno dei pochi tracciati viari romani venuti sinora alla luce in Sicilia.